Sicuramente l'ineadeguatezza del progetto europeo e ai noi le maggioranze politiche che hanno vinto le elezioni, che sono appunto sostanzialmente le conservatrici di destra, sono senz'altro alla base della maggior parte dei problemi che noi oggi vediamo, il che significa che ovviamente le opposizioni tra cui ci mettiamo anche noi non sono state in grado di essere abbastanza convincenti per portare delle proposte, ma anche e soprattutto un consenso adeguato per affrontare questi problemi. È vero che esiste un legame fra la crisi economica e l'incapacità di rispondere ai bisogni e alle preoccupazioni delle fasce meno abbienti della nostra società e anche a quelle magari più abbienti che hanno paura giustamente di perdere alcuni dei loro privilegi, ma è anche vero che queste crisi non possono avere un'unica risoluzione, ma devono avere una risposta che è allo stesso tempo complessa e che va nella direzione di una maggiore integrazione europea, non di una minore integrazione europea, ma anche di un cambio radicale di prospettiva economica e sociale. Io credo che noi dobbiamo tenere in considerazione che la soluzione in un solo paese non è sufficiente e che la dimensione davvero rivoluzionaria della nostra proposta politica, dal Green New Deal alla trasformazione del sistema energetico, ad un'apertura, ma un'apertura cum granosalis della nostra società, anche ad altre civiltà e ad altre religioni che non sono quelle originarie nostre, deve assolutamente trovare una dimensione appunto continentale. Non è possibile che ognuno si trovi nella sua strada per l'uscita dalla crisi economica e politica nella quale noi ci troviamo. Ecco perché la dimensione europea è importante, ma ecco perché il tema che dicevo all'inizio del legame fra la dimensione istituzionale e quella politica deve essere fatta in un modo molto concreto. Vorrei fare da questo punto di vista alcuni esempi. In questo momento il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker pensa che la strada più adeguata per uscire da questa crisi, anche di legittimità nella quale si trova non solo la sua istituzione, ma l'Europa tutta, sia quella di fare una serie di politiche, sostanzialmente di investimenti, che arrivino ad avere un impatto sull'economia. Però ritiene anche che degli accordi commerciali assolutamente squilibrati e non particolarmente utili come il TTIP debbano essere presi in considerazione e che il tema della trasformazione energetica dall'efficienza ai rinnovabili non siano poi così importanti e che gli investimenti debbano anche essere fatti in materia di grandi infrastrutture, per lo più o in gran parte inutili, e in investimenti un po' a pioggia. Ecco, noi crediamo che se noi vogliamo avere un impatto reale sull'economia ci deve sì essere una strada europea, ma ci deve essere una strada verde. Cioè ci deve essere una scelta oculata e molto specifica su quali sono gli investimenti che l'Unione Europea deve fare in un modo visibile, naturalmente, non nascoste dagli occhi dell'opinione pubblica, in particolare sul tema dei trasporti, sul tema della mobilità urbana, sul tema delle città, sul tema dell'adeguazione energetica degli edifici, sul tema della salvaguardia del nostro patrimonio culturale, eccetera. Tutte parti, tutte discussioni che noi facciamo ormai da anni nell'ambito del Green New Deal. D'altra parte, anche il tema della migrazione e della libertà di circolazione non può più essere affrontata da noi, ma anche da tanti altri nostri alleati, in un modo superficiale o in un modo semplicemente nel quale si dice noi siamo a favore della libera circolazione, noi pensiamo che i migranti siano un asset. Esiste un elemento positivo. Penso che nel corso degli ultimi anni noi abbiamo perso capacità di incidere nel dibattito perché non abbiamo risposto in un modo abbastanza convincente alle preoccupazioni di coloro che dicevano il modo attraverso il quale noi ci liberiamo della disoccupazione è semplicemente cacciando i migranti. Noi dobbiamo comunque portare un discorso che sia assolutamente basato sui fatti, noi sappiamo che la maggior parte della discussione sulla migrazione è superficiale e sicuramente non basata sui fatti, ma allo stesso modo dobbiamo riportare in auge anche l'elemento emotivo e sentimentale in qualche modo che non può essere lasciato solamente ai salvini di turno. Cioè quando noi parliamo della nostra società come una società multiculturale è basata su una grande ricchezza e diversità noi dobbiamo rispondere alla chiamata in qualche modo positiva ed emotiva almeno in modo altrettanto convincente che questi personaggi fanno quando demoliscono anni e anni di lotta antirazzismo e antidiscriminazione semplicemente dicendo io voglio proteggere soprattutto i miei. E quindi credo ci sia un grande lavoro anche dal punto di vista culturale e non solo politico da questo punto di vista. Allo stesso modo sia a livello nazionale che a livello europeo i due temi sono assolutamente legati. La lotta ai cambiamenti climatici deve avere una dimensione economica chiara e deve anche avere una dimensione diciamo così utilizzabile tutti i giorni a partire dal tema del discesso idrogeologico e delle questioni sismiche ovviamente dal punto di vista italiano che in altri paesi si possono articolare in un modo diverso ma che devono veramente essere legate alle preoccupazioni dei nostri cittadini. L'Unione Europea oggi appare agli occhi dei cittadini solamente come un vincolo riguardo alla spesa pubblica e una fonte di decisioni imposte deve invece diventare il luogo per la partecipazione dei cittadini che in questo momento si sentono un po' defraudati. La democrazia credo sia possibile e necessario a livello sovranazionale ma deve assolutamente trovare un consenso e dei meccanismi che non possono ai noi fare l'economia di un cambio radicale delle politiche e questa è la difficoltà nella quale noi ci troviamo oggi il fatto appunto di riuscire a unire a mettere insieme le politiche che devono cambiare anche se noi non abbiamo oggi una maggioranza e le istituzioni che devono diventare più democratiche e trasparenti anche se oggi anche lì le maggioranze vanno in direzione diversa e anche il consenso dei cittadini attirati da un discorso razzista e xenofobo che noi speravamo di non vedere mai più tornare. Credo da questo punto di vista ci siano delle possibilità positive non solamente per i verdi ma per una vasta alleanza il fronte democratico di cui parlavo prima e credo che questo passi davvero attraverso una mobilitazione dei cittadini abbiamo visto magari su tematiche specifiche abbiamo visto per esempio che intorno al TTIP quindi al trattato trasnazionale c'è stata una grande mobilitazione sociale che ha fatto sì che in Germania e in Francia molto meno in Italia perché la mobilitazione è stata naturalmente meno intensa ha portato ad una messa in mora di questo progetto che anche noi come Verde abbiamo giudicato molto negativo e penso che lo stesso tipo di azione può essere fatto sul tema dell'energia sul tema del cambiamento climatico ma anche della democrazia. ovviamente è molto più facile avere una agenda negativa cioè essere contro qualcosa che essere per qualcosa ma penso che nella nostra riflessione dei prossimi anni e mesi questo deve essere l'obiettivo anche da parte di forze di opposizione e per un livello che pare così lontano ma non lo è come quello europeo. Ciao!